Adesso vi spiego tecnicamente cosa significa 432 Hz. Intanto Hz è l'unità di misura della musica, della nota, della frequenza, della vibrazione. Significa che un suono si propaga nello spazio circostante a 432, in questo caso, vibrazioni per secondo. Hz deriva dal nome di quello che ha coniato questa legge. 432 Hz è quindi una nota udibile, ed è esattamente questa. Si sente? Perfetto. Se noi accordiamo i nostri strumenti a 432 Hz, succede che abbiamo un La a 432 Hz e tutte le altre note sono, misurano altre frequenze, ma sono in relazione a 432 Hz. Hanno un rapporto di proporzione. Normalmente, invece, gli strumenti sono accordati in 440 Hz. Stesso discorso, però, tutto a 440 Hz. Questo significa che 440 Hz è l'accordatura standard con cui noi ogni giorno ci cibiamo di musica. Significa che se andate al supermercato e ascoltate musica, è settata in 440 Hz. Se mettete un CD nell'autoradio, è in 440 Hz. Se comprate un prodotto musicale o uno strumento musicale, è settato in 440 Hz. Oggi noi suoniamo in 432 Hz. La differenza tra le due accordature è veramente sottile. Se adesso vi facciamo ascoltare una musica prima in 440 Hz e poi in 432 Hz, non si sente alcuna differenza. Bisogna avere veramente un orecchio molto allenato, molto sottile. La differenza grande sta invece nell'ascolto che va al di là della musica e in un ascolto che coinvolge tutto il nostro essere. Tutto il nostro essere nella sua totalità fisica, ma anche riguardo a corpi astrali o energetici, o anche riguardo alla nostra spiritualità, chiamatela come volete. Quindi una musica che ci coinvolge totalmente. E perché? Perché, non dobbiamo mai dimenticare quella legge di risonanza, queste frequenze entrano in relazione con noi. Perché sono, emette frequenze che noi stessi emettiamo quando siamo, usando un termine tecnico, dei fighi pazzeschi. La differenza tra le due accordature è veramente sottile. Se adesso vi facciamo ascoltare una musica prima in 440 Hz e poi in 432 Hz, non si sente alcuna differenza. Bisogna avere veramente un orecchio molto allenato, molto sottile. La differenza grande sta invece nell'ascolto che va al di là della musica e in un ascolto che coinvolge tutto il nostro essere. Tutto il nostro essere nella sua totalità fisica ma anche riguardo a corpi astrali o energetici o anche riguardo alla nostra spiritualità, chiamatela come volete. Quindi una musica che ci coinvolge totalmente. E perché? Perché, non dobbiamo mai dimenticare quella legge di risonanza, queste frequenze entrano in relazione con noi.